quando sono state svolte le olimpiadi moderne la data è 1896 si sono svolte ad atene promotore stato il barone Pierre de Coubertin il quale cercando di riproporre i giochi olimpici che anticamente si svolgevano in Grecia in un'ora di Zeus che si sono svolte dal 776 avanti Cristo al 393 dopo Cristo fino a che l'imperatore teodosio cristiano ritenendo non conciliabile per la regione cristiana dei giochi in onore di Zeus sospese le competizioni olimpiche il barone Pierre de Coubertin propose di rifare una competizione sportiva in cui tutti gli attriti del mondo si confrontavano nelle diverse discipline nel 1924 venne istituita anche l'olimpiade per le attività sportive invernali solo nel 1994 venne istituita anche la paraolimpiade riservata agli atleti che presentano delle difficoltà lo sport è visto come un tramite di unione e confronto pacifico fra diversi atleti appartenenti a diverse nazioni ogni quattro anni gli olimpiadi si svolgono in un luogo diverso ogni nazione si propone per l'organizzazione e la realizzazione di giochi olimpici in alcuni momenti storici gli olimpiadi sono state sospese non sono state svolte ma questo sarà oggetto di un prossimo video